musica 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 qua una leva no no mica ogni buco non credo che cazzo sennò poi troppo era no lo cerca bene qua c'è una torcia non serve un cazzo ma che cazzo è? un'altra torcia qua un'altra torcia oddio dove no non c'è un cazzo mi sa oddio l'ho trovata l'ho trovata si si provata ad alzare vai alza ok successo qualcosa? buono ok ok andiamo oddio un'altra stanza stanza 8 sharing sharing il tuo partner può accedere a questa cesta allora io dubito che questa leva debba aprire la porta apre la porta oh c'è una leva la premo fanno andare in buco che è successo raga? che è successo? ho aperto la porta? è caduto non è vero? questa è scattata per ritornare su su che genere che è raga ho trovato tre lingotti di ferro e poi da me ci sta un cubo di di coso e dove c'è il working bench qua? hai tirato una leva si ho tirato una leva comunque tre torce ci sono ci sono? tre torce io non me ne faccio niente te cos'hai? ho un allora tre lingotti di ferro più un cubo di ghiaccio che secondo me devo sciogliere e fare i cosi allora ti passo la cassa e tu ti ho messo i tre lingotti di ferro tu fai i cosi come si chiama? il secchio perchè secondo me è quello è un circuito redstone eeeh ragazzi mi sembra dovete riswitchare la leva cambiammi il muoto ecco grazie a me nel frattempo il ghiaccio che non si scioglie al cameramen ci aiuta che fai? eeeh vabbè ti passo il secchio provare a riempirlo là eh si ma il ghiaccio non si scioglie però dobbiamo aspettare che si scioglie ok il secchio calma è per piacere si scioglie mettetilo proprio sopra la torcia un cubetto più sopra mhm c'è di niente infatti non succede niente non si scioglie? no è l'unica possibilità e non abbiamo tante altre robe da fare tornare indietro mi sembra una roba abbastanza strana ok si è sciolto si è sciolto si è sciolto? ok e ora dove devo buttarla quest'acqua? eeeh passamela qua in cesta magari ci devo fare qualcosa io eccola qua io un'idea ce l'avrei e metterle in non andare in questo buco e io ti annego ok si è aperta si è aperta si è aperta ok sono uscita ok qui c'è una cesta con un'altra spugna this is your goal tell your partner to drive it in oddio è qui come stanza 9 i told you that vabbè faccio finta di capire io amo i 3 è scritto chiedi al tuo partner ci sono delle leve ah mi i treni questo è il tuo buco maialino ah vedi le leve cambiano i percorsi le leve cambiano i percorsi provate a lanciare dei dei kart ma li cambiano come? li cambiano cambiano le rotaie le rotaie cambiano ah è vero che figata tuttuto 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 avete provato con i kart ok eccolo io cambio il problema è sapere come crearlo non lo so io non ho cambiato una pazzesca però mi sai che è andato il loop il si sta facendo oh vediamo però poi ci fa ma cambiare quello bisogna per cambiare mi sa Quale, quale? Dimmi quale L'ho là che sto guardando io in questo momento, se guardi la mia faccia lo capisci Cioè questo qui in mezzo? Esattamente Ok, cambiato Ok, vediamo ora cosa fa Va di qua, va di qua E dove va, dove va? No, torna a fare il giro, credo Però bisogna cambiare ora questa leva qua, io non tocco nulla perché sta a voi, mi sa Allora io cambio questa qua, la prima Vai, cambiata Buono, devi farla arrivare lì, devi anche cambiare quella dopo, mi sa Cioè questa? Esatto Quella che cambia, esatto No, a quanto pare non era quella Sì, no, no, devo cambiare quest'altra forse, ora che arriva E rimetti quella come era prima Quale, questa? Sì, bravo Ok, ok Non dovete finire mai Ok, ce l'ho fatto Ah, nel buco, maialino Che culo Classic Fed Information Lo dici tu Oddio raga, qua c'è una leva con scritto Prendi questa leva per uccidere il tuo partner Nessun problema Tu Però tu ti sei ricordato di dare il tuo partner E' un regalo di compleanno No, io sono A Raga, io non so se devo premerla questa leva La premo? No Andiamo avanti Boh, se me lo voglio uccidere sei cattivo Anche perché dopo penso sia abbastanza un casino a trovare Uh, uh, uh Andiamo, andiamo Lol Perché prende fuoco? Perché prende fuoco? Lol Penso ci sia qualcosa che mi fosse uccidere, come ha detto la leva Oh, oh, vai Che c'è qui dentro? Che c'è? Che c'è? I meloni, i meloni La musica Vai, lasciamo lì qua i meloni, però non è Ok Matchfactor Appacca e l'audio del mio jukebox va a scatti Lol Vediamo cos'è c'è scritto qui Oh, qui possiamo appartarci Quei due cazzoni sono andati così lontano Più lontano di quello che aspettavo Oh raga, vogliamo settare lo spawn Solo la stanza parkour C'è una stanza parkour L'ultima stanza è la stanza del Aspetta un minuto Tu non avete ancora fatto la stanza del DT? Come? Ampendo le scatole sto musolo qua No, la mia musica Eh, si sente un cazzo Eh, sentitevi di per restare qua Bevetevi del tè Non siamo dei dannati frilesi A me non piace il tè Mi piace Se cazzo vuoi Ah, hai detto Sono solo testo su un cartello Ma io volevo solo toccarlo Lo volevo solo toccare Comunque non possiamo dormire perché Non è notte Sento la pioggia Giustamente piovendo Ah, vedi, 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 vedi A me non mi fa dormire però La pioggia che rompe le pale Giustamente Andiamo avanti Che devo fare Andiamo avanti raga Mi pare giusto Anche perché dopo magari copre l'audio Decompressurizzazione Io mi prendo le torce Io sento del rumore dell'acqua E stanza di decompressurizzazione non mi Non ecco come apriamo sto musolo Bo, tentare non nuove Ecco Eh, te pare Eva Provo Torce E così ne facciamo delle torce Provo, provo, provo Proviamo E ti pareva E tu davanti a un cartello Ecco, come non detto Aspetta, vediamo un pochino Raga, ci sono Oddio, no Mi state Aprite, aprite, aprite Sto morendo, dai, dai, dai Bastardi Sto morendo, cazzo Eh, io ho tirato ma non si apre Andate a fare in culo Tix Entro e charge Vieni qua, vieni Oddio, non posso neanche andare sopra Ah, è chiuso sopra, raga State attenti Ok, sono vivo per il rotto della cuffia Comunque ci sono delle ceste, ho visto Non vi preoccupate Il suo camera è preferito durante la registrazione di questo video Lui è in portale Sì, infatti Comunque raga, ci sono delle ceste dentro Provate a vedere Non sono anch'io, è strano Non da negare È pieno di ceste Sì, infatti Non è che magari dobbiamo trovare qualcosa? Credo di sì Aspetta, però c'è una porta ma non dobbiamo aprirla Prendiamo un fiato Eh, prendi quella tolaia, io prendo questo Ok, ho trovato un bastone, un bastone ho trovato Un bastone? Sì Vado a respirare, se no Buonio, ho negato Ho un bastoncino, secondo me dobbiamo creare tipo una leva, credo Uh, cobblestone Ok, ok Buono, buono, abbiamo provato Per la leva Corri Eh, tiramelo Eh, dato che qua si staccherebbe perché c'è l'acqua Aspetta che trapasso lì nel buco Dove cazzo? Buono Ah sì, eccola, eccola Oddio, crepo, ora, crepo, ora, crepo No Creiamo questo La leva ci potremmo Ok, creata leva Dove la devo piazzare? Qui? Qui Penso di dove ci sia la glow Ok, aperta, aperta Corri, corri, corri Buono, entra tu Et voilà Buono, cameraman Alas The two of the must split up again, so sad So sad Oddio, Ettore sembra più grande Più cattivo e minaccioso Mamma, quanti cartelli qua, raga Stanza 12 Who? Oh, cazzo MC Deathquiz Ok, ok, già che ci sta il Eh, io vedo il della Uh, stavo per rompere il dietro But an out of me your partner